D'estate sono sempre sotto il sole, amo il mare e la barca vera è la mia passione. Quindi raggi del sole con tiri sulla pelle. Sono un uomo, ma col tempo ho iniziato a notare la mia pelle sempre più disidratata, grinziosa ed è comparsa qualche macchia. Così il medico mi ha spiegato che per proteggersi contro i danni dei raggi del sole bisogna agire da dentro, non è sufficiente la crema solare in superficie. E cosa aiuta la pelle contro i raggi UV? Gli antiossidanti, molto importanti per combattere l'invecchimento cellulare. E dove si trovano? Praticamente sono presenti già in modo naturale in grandi quantità in alcuni composti naturali. Ad esempio, e io non lo sapevo, nelle arance rosse. Ed è per questo che l'estratto di arance rosse ha la giusta efficacia. Perché contiene gli antiossidanti. Ed in più, se abbinato all'acido ialluronico che ridona idratazione alla pelle, il risultato è completo. Così ora bevo Yalut Kred, un integratore che unisce proprio estratto di arance rosse e acido ialluronico. Già pronto. Pratico e gocce in un bicchier d'acqua. Non mi dimentico mai comunque di bere molta acqua e di mangiare frutta e verdura. Ma Yalut Kred è sempre con me. È l'aiuto mirato che mi serviva davvero.